ciao a tutti in questa giornata grigia ho deciso di vestirmi colorata e spero che questo mi riempia di buon umore perché è una sensazione stranissima entrare in ristorante e avere tutto chiuso tutto spento io mi sono organizzata ho tolto tutto dai bicchieri alle posate che erano sopra i tavoli e adesso devo solo mettere via le piantine che porterò fuori al fresco io spero tanto che questa epidemia finisca presto perché desidero tantissimo di rivedere questi tavoli di nuovo pieni e sentire di nuovo le vostre voci io vi saluto e spero di rivedervi presto comunque in questi giorni faremo dei video per tenervi compagnia per farvi vedere come prepariamo i nostri piatti così almeno vi cerchiamo di mantenere la voglia il desiderio di tornare presto intanto restate a casa e mantenetevi in salute mi raccomando che dobbiamo uscire nel prima possibile